ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi già lo conoscete ma oggi ragazzi video molto interessante perché lanceremo l'inverter in ordine di gruppo questo sta a significare ragazze che grazie alla collaborazione tra box e channel e il produttore pov mr questo inverter potrà essere tuo a questo prezzo ragazzi sì ma solo 20 pezzi perciò ragazzi sbrigatevi questo è l'inverter un 48 volt off grid ibrido con regolatore di carica integrato e questo opzional anche l'antenna wifi display con quattro tasti qui alla connessione parallela perché puoi connettere anche più inverter paralleli ragazzi pesa tantissimo e pesantissimo sotto anche la connessione per i pannelli giustamente per il pacco batterie e la confezione questo è il manuale di istruzione il certificato di garanzia più e bulloni e i connettori per il pacco batterie ragazzi spedizione in europa ok gratuita questo sta a significare che in due 4 giorni al massimo avrete il vostro inverter a casa e lo pagherete davvero davvero pochissimo e ho sudato tanto sto faticando tantissimo ragazzi per farvi avere i migliori prodotti al miglior prezzo questo vi avviso che solo l'inizio iniziamo con l'inverter ma poi proseguiranno anche le batterie proseguiranno anche i pannelli e poi anche gli accessori per un fotovoltaico off grid ragazzi come sapete il mio canale è un canale sulla tecnologia sul fai da te sulle recensioni di prodotti tecnologici e grazie anche agli sponsor anche questa volta posso darvi questa grande grande opportunità di fare davvero un super affare sugli altri canali li troverete a 550 li troverete a 600 li troverete anche a 800 euro in base ai ai agli e commerce ragazzi è un inverter da 48 volt che funziona obbligatoriamente con batteria perciò ragazzi il secondo step sarà quello delle batterie ovviamente ha un ingresso fotovoltaico massimo 500 volt e bello grosso bello grande pesantissimo ragazzi niente questo video lampo è solo per accendervi a tutti la campanellina la lampadina volete risparmiare volete un impianto off grid ragazzi si inizia a ballare iniziamo con questo 20 pezzi solo 20 pezzi in europa spedizione in italia gratuita in massimo quattro giorni saranno da voi meno di questo prezzo ragazzi un prodotto di questi che parliamo di seconda generazione parliamo prodotto di bella davvero qualità guardate cosa qui rs 485 usb anche i contatti per eventualmente inserire un contatto aperto chiuso per pilotare qualcosa le ventole a ragazzi di tutto e di più come dicevo opzional potrete anche avere questo questo è l'antennino ok questo ragazzi è l'antenna wifi eccola qui che va a mettersi sotto e si allaccerà tramite la presa eccola qui eccola qui eccola qui e per e domodizzare diciamo per leggere a distanza tutte le informazioni di produzione consumi potenza del tuo inverter ibrido pov mr 5.6 gli interessati mi mandano immediatamente non perdino tempo ragazzi serietà assoluta e do e pretendo serietà io sono un consulente energetico vi seguirò vi spiegherò come fare per averli e mandato un'email a offer punto fox ok questa mail che trovate in sovra impressione ragazzi questo è solo il primo se andrà bene andremo avanti anche con altri modelli di inverter perché no anche con le batterie e anche con i pannelli solari fotovoltaici ragazzi tutto è sempre al miglior rapporto qualità prezzo solo per voi ragazzi solo per voi sì questo è il prezzo dell'inverter a questo dovrete sommare una piccolissima quota che sono le tasse o tariffe bancarie in base a che tipologia di pagamento volete andare ad effettuare direttamente ragazzi a loro comunque quando mi contatterete avrete link diretti per andare ad effettuare gli acquisti e pagare i vostri ordini ragazzi ciao a tutti belli che al prossimo video